Se uno non c'è il fiato, non può giocare, se non c'è memoria non si può recitare e non si può sempre poi improvvisare. Ci sono delle virtù che sono state studiate e fatte per essere detti in quel modo, per avere quella parola finale, perché quello prova che l'altro reagisce a quel modo. Azione Abbiamo fatto tutto il lavoro su micropause, pause e variazione di tono. È il momento di metterlo a frutto con le battute. Se ne facciamo tutte uguali, è come una macchina che viaggia lì in terza, dopo un po' si imballa il motore. Per esempio quarta, terza, seconda, prima, ancora quarta. Quello dà l'attenzione che ti ascolta e dà più verità a la scena. Nella vita abbiamo sempre degli ostacoli. Ma l'ostacolo, sapete che cos'è? È il nostro migliore alleato. Che ci mette di fronte a qualcosa che se la superiamo noi cresciamo. Grazie. 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 Grazie.